Raffadali arriva a quota 69 casi di Covid-19. Il sindaco Silvio Cuffaro chiede l'istituzione della zona rossa nel proprio comune. Il primo cittadino infatti sta chiedendo alla regione l'istituzione della misura di contenimento straordinaria. Inoltre è firmato un'ordinanza restrittiva che applica una lunga serie di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza. In particolare il sindaco ha imposto che le uscite per gli acquisti essenziali, eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare. Sarà inoltre consentita la partecipazione alla cerimonia funebri, all'accompagnamento del feretro, all'ultima dimora, solo agli stretti congiunti ed ovviamente al personale addetto alle imprese funebri, evitando le visite di lutto a casa. Rispetto al rischio di assembramenti il comune ha imposto un ingresso solo attraverso prenotazione al villaggio della gioventù, solamente pomeriggio, con un massimo di 10 persone alla volta e bisognerà chiamare un numero telefonico per svolgere attività motoria individuale. Sarà ovviamente permesso l'accesso ai soggetti con disabilità accompagnati. Rimangono interdette tutte le altre aree a verde, i parchi gioco, delle villette comunali, così come sarà chiuso il campo di calcio. Verrà inoltre sospeso, tranne che per i generi alimentari, il mercato settimanale. Oltre ad aver attivato la DAD in tutti gli istituti, il sindaco ha inoltre fatto obbligo a tutti i supermercati di prevedere una postazione esterna con apposito erogatore di liquido disinfettante per sanificare i carrelli della spesa in entrata al supermercato e di lasciare fuori dall'esercizio durante le ore notturne gli stessi al fine di permettere la sanificazione da parte del comune. Restano inoltre gli obblighi per gli esercenti in tema di controllo. Il comune invita inoltre i medici di famiglia, segnalano al comune di Raffodali la necessità di consegnare a domicilio le ricette di soggetti fragili e affetti da patologie croniche e ai farmacisti di comunicare i farmaci per gli assistiti al comune di Raffodali che provvederà al loro recapito a domicilio. Gli uffici pubblici e privati inoltre dovranno attivare le procedure di prenotazione dei servizi al fine di evitare assembramenti. Il municipio inoltre procederà alla sanificazione per due volte alla settimana del territorio comunale giornalmente per i siti sensibili con l'ausilio dei volontari della protezione civile.